Con una semplice ma significativa cerimonia giovedì 6 febbraio in via Lagrange sono iniziate le celebrazioni per il centenario della fondazione della sezione di Torino dell'Associazione Nazionale Alpini la prima in Italia conosciuta come la veia costituita il 6 febbraio 1920 alla presenza di autorità civili e militari è stata scoperta una targa commemorativa della fondazione che avvenne nel palazzo che al tempo ospitava il circolo ufficiale in congedo le celebrazioni vivranno il loro momento centrale sabato 6 e domenica 7 giugno con una serie di eventi che si apriranno con l'alza bandiera in piazza Castello e una messa nella chiesa reale di San Lorenzo fanfare e cori alpini si esibiranno nelle piazze e nelle vie centrali della città mentre si potrà cenare con gli alpini in piazza Vittorio Veneto domenica 7 in programma una sfilata al suono delle fanfare alpine da piazza Carlo Felice a piazza Vittorio sarà l'occasione per ribadire che quando c'è bisogno a Torino come in tutta Italia gli alpini ci sono sempre attualmente con la città metropolitana col comune regionale siamo circa 350 volontari di protezione civile è un impegno noi abbiamo circa 80 volontari che mi danno un H24 per qualsiasi emergenza e gli altri a necessità lo diamo alla città volentieri ma come l'abbiamo dato alla città con loro abbiamo dato tanto nelle zone terremotate abbiamo fatto dei turni che sono stati di 15 giorni abbiamo fatto tutto dall'Abruzzo alle Marche siamo stati d'apertura ma gli alpini sono così noi poi abbiamo la fortuna di essere supportati da una sede nazionale noi siamo circa 400 mila abbiamo un ospedale da campo che è il primo primo in Italia come trasporto abbiamo Oriol serio ci possiamo muovere in qualsiasi momento in 24 ore possiamo partire abbiamo l'aereo diamo tutto quello che sappiamo dare come voi forse saprete noi abbiamo un libro verde che racconta quello che gli alpini fanno noi in Italia di mano d'opera di lavoro di volontariato e di soldi anche noi diamo circa 70 milioni di euro all'Italia